Hai bisogno di crediti? Vai su VIPCoinsFIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Joey Spod, lo staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di un super giocatore Cristiano Ronaldo, Tiff, la terza versione in form. Cristiano Ronaldo è un ala e attaccante del Real Madrid e del Portogallo, vincitore del pallone d'oro, in questa carta con 96 di rating. Sicuramente sia in game che nella realtà è uno dei più forti giocatori mai esistiti, almeno a parer mio. Personalmente questo giocatore è il migliore che abbia mai provato su Foot15. Ha tutto quello che occorre per essere il miglior attaccante, velocità, tiro, dribbling, passaggi e anche fisico e colpo di testa. In pratica è il giocatore che è in grado di risolvere la partita, anzi non solo una partita, anche tutte le partite. È in grado di prendere palla, correre, scartare gli avversari, scartarsi anche il portiere ed andare al tiro con una facilità assurda. Ha un'agilità mostruosa, nonostante la sua fisicità. Paragono la sua agilità e fisicità a quella di Ibrahimovic Sif, secondo informe. Solamente che Ronaldo ha più agilità e meno forza fisica, ma giusto un po' di meno. Resiste bene ai contrasti. È in grado di resistere alla prima spallata ed anche alla seconda. Per fermarlo bisogna falciarlo, perché se gli si lascia un minimo spazio lui riesce a sfruttarlo e a liberarsi facilmente della marcatura. A parer mio ha un dribbling superiore a tutte le carti presenti in Foot15, eccetto le versioni Toti e le future Tots. Il suo tiro è formidabile. Riesce a far tutti i tiri che volete, da lontano, a pallonetto, a giro, di precisione, di esterno, tutti, nessuno escluso. Poi sa tirare sia di destro che di sinistro e nelle clip lo vedrete, perché ha 4 stelle e piede debole, che sono un pro. Parlando del dribbling vi dico solo alcuni numeri, come il 98 di agilità, 97 controllo palla e 98 dribbling. Questi valori parlano da solo. Ed in game sono spettacolari. E poi come ben sapete ha 5 stelle, skill il massimo. Quindi potrete skillare tranquillamente, potrete dribbling in velocità, potrete muovere semplicemente la levetta analogica, perché ha un ottimo controllo palla e vi libererete facilmente degli avversari. Anche con estrema facilità. Io personalmente mi liberavo abbastanza facilmente, anche se non so proprio skillare in maniera ottima. ha un 97 di tiro generale con, vi dico solo qualche valore, 99 il massimo. Finalizzazione 98 potenza tiro e 97 long shot. Sottoporta non sbaglia, dalla distanza fa male al portiere e la sua potenza rende i suoi tiri quasi impossibili da bloccare. Ad ogni partita fa gol, fa sempre gol. E le 10 partite con circa 40 gol lo dimostrano ragazzi. Davvero non ho mai fatto così tanti gol con altri giocatori. Per quanto riguarda la velocità c'è poco da dire, perché è un fulmine. Ha una velocità massima mostruosa. 97 sulla carta. È una partenza lampo. 94. E poi gli uniamo anche il suo fisico, che è davvero buono. Più nello specifico mi è piaciuta la sua resistenza. 96 sulla carta che in game vuol dire infaticabile, perché corre sempre. È davvero ottima questa sua caratteristica. In generale ha 86 di fisico con 97 resistenza, 86 in forza e 68 aggressività. Personalmente in game mi è sembrato più aggressivo, perché mi ha recuperato parecchi palloni. Sui passaggi ho poco da dire perché questa carta ti rende egoista. Perché vuoi dribblare tutti ed andare al tiro con Ronaldo. Però a me sono piaciuti i suoi cross. Erano precisi e ben calibrati. L'unico contro a parer mio di questa carta, l'unico contro pesante, se volete definirlo come un contro, ma io lo definisco un contro, è il prezzo. Perché va dai 10 milioni ai 15 milioni. Ed è anche difficile da trovare sul mercato. Quindi davvero troppo per un singolo giocatore. Ma io ho avuto la possibilità di provarlo grazie al nostro Andy, perché ha avuto un culo immenso trovandolo in un pacchetto. E lo ringrazio per avermi dato questa possibilità. L'ho provato come AS, ATS e ATT. Naturalmente ATS nel ruolo di ATT. Ed è ottimo in tutte e tre le posizioni. Riassumendo, Pro, velocità, tiro, tutto, tutto del tiro, dribbling, tutto anche qui, resistenza, 5 stelle, skill, 4 stelle, piede debole, cross e colpo di testa. Contro, il contro più evidente a parer mio è il prezzo. Il mio voto è un 10 e come ben sapete io non ho mai dato un 10 a nessun giocatore. Però Ronaldo Tiff se li merita ed è un 10 unico. Ovvero è un giocatore unico. In conclusione è una carta fantastica, un attaccante completo. Ti risolve le partite e se avete davvero tantissimi, ma tantissimi crediti provatelo e non ve ne pentirete. Dunque ragazzi, la player review di Ronaldo Tiff termina qui. Se vi è piaciuta, naturalmente non dimenticate di lasciarci un bel mi piace. Mettete anche mi piace alla nostra pagina Facebook. Dunque ragazzi, qui è Joey Spon, vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda alle nostre altre player review future e passate. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.